La rivolta del 7 ottobre 1944, attuata da un gruppo di uomini del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau, è uno dei casi più interessanti di resistenza in situazioni estreme, della possibilità che la resistenza si possa costruire, pensare, concepire, organizzare e attuare in situazioni estreme, quali potevano essere quelle della zona di sterminio del campo di Birkenau, aperta e messa in funzione a partire dalla primavera del 1943. Gli uomini del Sonderkommando che nell'estate del 1944 avevano raggiunto le mille unità, erano quattro squadre impegnate nei quattro crematori, in realtà tre, uno incominciava a funzionare meno, avevano da circa un anno attuato una rete di resistenza clandestina all'interno del Sonderkommando che aveva già esercitato alcuni atti di resistenza, ad esempio scrivendo, avendo possibilità di documentare l'attività di sterminio che si stava svolgendo e seppellendo poi questi documenti che vi era la coscienza di ciò sarebbero state delle prove, dei capi d'accusa nei futuri processi contro il regime hitleriano e oppure pensando anche di documentare fotograficamente cosa che è stata fatta nell'estate del 1944, il processo di sterminio. Ma una rivolta armata vera e propria era in realtà nell'idea di un più vasto gruppo di resistenza che il campo di Auschwitz aveva visto consolidarsi soprattutto dal momento in cui i comunisti erano stati deportati ad Auschwitz e questi due movimenti di resistenza, cioè quello generale del campo diretto da militanti comunisti e quello interno invece ai sondercommando di ebrei di Birkenau, entrarono però in una situazione di conflitto per visioni strategiche opposte. Da una parte si intendeva sì pensare anche a una possibile sollevazione, ma si aspettava che l'armata rossa fosse più vicina, dall'altra da parte dei sondercommando c'era l'urgenza di agire il prima possibile e questi due piani strategici alla fine non portarono a un'intesa comune. Nell'estate del 1944 c'era già l'idea che ci potessero essere dei tentativi, ma il tentativo scoppiò il 7 ottobre, quando un gruppo del sondercommando alloggiato nel crematorio 4 venne schierato nella Corte per essere selezionato, una parte di loro sarebbero stati eliminati e questo portò alla sollevazione. La sollevazione fu in realtà un tentativo assolutamente destinato a non poter avere successo, si portò all'evasione alla fuga dal recinto di un gruppo di 250-300 uomini che riuscirono a uscire dal crematorio 2 distante qualche centinaio di metri dal 4 dove si sviluppò la sollevazione, ma sia gli uomini del 2 che gli uomini del 4 nel giro di 24 ore vennero raggiunti, uccisi o giustiziati all'indomani. Resistere in situazioni estreme pone delle questioni interessanti, innanzitutto è possibile resistere perché si hanno condizioni fisiche che lo consentono, gli uomini del sondercommando avevano questa possibilità, erano alloggiati, nutriti, equipaggiati, vestiti e quindi erano favoriti rispetto alle squadre ad esempio di lavoro esterno e nello stesso tempo però questo favore che loro avevano, questo favore nel senso di elementi favorevoli che facevano sì che il deperimento fisico fosse molto limitato, gli permetteva naturalmente anche di concepire e di progettare eventuali atti di resistenza, anche armati pur con i pochi armamenti che poterono raccogliere, un po' di polvere da sparo, qualche rivoltella, poca roba, delle molotov, ma nello stesso tempo questa sopravvivenza che gli permetteva di conservare sia la forza che la capacità mentale di pensare alla situazione li poneva anche di fronte alla loro personale situazione, vivevano nel centro della catastrofe, cooperavano in qualche maniera nella distruzione, soprattutto della cremazione, della distruzione dei corpi, della sparizione delle tracce dei corpi e questo terribile dilemma è se continuare a esistere, sopravvivere per potersi ribellare o se altrimenti invece con un atto di eroismo assoluto ma destinato all'immediato fallimento, cercare o addirittura al suicidio, cercare di interrompere questa attività terribile a cui erano chiamata e questo costituisce appunto il dissidio in cui questi uomini si muovono per i mesi in cui vivono all'interno e sopravvivono all'interno della zona di Stermiglio. La sopravvivenza è ragione di resistenza, non perché la resistenza motivi la sopravvivenza, ma perché si vive come dicono loro perché non si può fare altro, perché c'è una sorta di imperativo biologico che porta l'uomo, salvo qualche raro caso, a non cercare la morte ma a cercare la sopravvivenza, ma la sopravvivenza nello stesso tempo consente di organizzare la resistenza e la resistenza in questa situazione deve contare non tanto sull'atto di coraggio ma su quanto sull'atto di pazienza e questo è effettivamente il paradosso in cui loro si trovano. Dovrebbero ribellarsi subito e quindi attraverso l'etica del coraggio, del gesto estremo che però si brucia nel momento in cui si compie o invece atto di pazienza, cioè aspettare il momento favorevole per poter tentare una sollevazione. In questo dilemma passa l'estate del 1944 nella quale si consuma l'ultimo sterminio di massa all'interno del campo, la comunità ebraica e le comunità degli ebrei di Ungheria che vengono assassinati in quei mesi e si arriverà appunto fino all'ottorno del 1944 per avere la sollevazione.